Sabato 2 marzo, in diretta e in chiaro su Rete 8, il match Torres-Pescara, valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Dallo stadio Vanni Sanna di Sassari, Torres-Pescara, sabato 2 marzo, in diretta e in chiaro dalle 14, con ampio pre-partita a partire dalle 13. I grandi eventi sportivi solo su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre.